Ciao cari amici, in precedenza io già vi ho raccontato di diversi casi delle strani morti dei militari statunitensi, ma anche rappresentanti di elite militare statunitense, di colonnelli, generali, ufficiali di alto livello che ricoprivano gli incarichi molto importanti. Le loro morti avvenivano in maniera molto strana, subito dopo, qualche giorno dopo, qualche tempo dopo, grandi bombardamenti che l'esercito di federazione russa, l'aviazione russa, le forze missilistiche russe facevano sul territorio dell'Ucraina, sul territorio controllato dal regime ucronazista, contro gli obiettivi segnalati come punti di comando della Nato, centri di addestramento dell'esercito ucraino con partecipazione dei specialisti della Nato, oppure centri di raccolta dell'informazione della Nato, i vari centri operativi di monitoraggio di satelliti e così via. Questi luoghi particolari che di solito vengono gestiti in Ucraina da esperti militari della Nato, quando vengono colpiti, poi noi troviamo sempre nella stampa, sulla stampa, grandi annunci di morti accidentali, soprattutto di rappresentanti di spicco dell'esercito statunitense. Diciamo che l'interesse delle masse non attirano ovviamente le scomparse di militari statunitensi, di esperti statunitensi di basso livello. Se muore un gruppo di sotto ufficiali, se muoiono dei mercenari che prima ricoprivano dei ruoli di bassa manovolanza dell'esercito statunitense, ad esempio comandanti dei plotoni, persone che comandavano anche qualche batteria di artilleria a razzo, come è accaduto ad esempio l'anno scorso nella zona di Zaporoghe, quando è stato distrutto uno dei primi sistemi di lancio multiplo dei razzi non guidati e dei missili statunitensi Himars, se voi ricordate uno dei primi sistemi è stato distrutto proprio in quella zona e in quell'occasione è stato anche riferito che sono rimasti uccisi diversi cittadini statunitensi che erano presenti sul posto e svolgevano ruolo dei consiglieri. Cari amici, è chiaro che i militari che sono presenti sul ruolo del lancio dei razzi non guidati e dei missili con sistemi che l'Ucraina ha appena ricevuto e che i militari ucraini non sono in grado di usare proprio perché non hanno nessun tipo di approccio con questi sistemi e non hanno fatto le scuole, non hanno fatto nessun tipo di addestramento con questi sistemi perché come vi ho già raccontato più volte i sistemi missilistici statunitensi che arrivano sul territorio ucraino non predispongono i corsi, lunghi corsi per i militari ucraini nel loro utilizzo nella fase precedente. I sistemi missilistici vengono trasferiti e basta. Poi viene detto che li usa l'esercito ucraino, poi quando si scopre sul luogo del bombardamento di uno di questi sistemi stranamente sono morti più militari statunitensi che ucraini. E quindi noi stiamo parlando delle situazioni che capitano, capitano spesso, ma ovviamente per la censura occidentale, per il potere occidentale, per la Nato è molto più facile camuffare la morte di rappresentanti dell'esercito statunitense di basso livello invece della morte di altri rappresentanti dell'esercito statunitense come generali o colonnelli. Quando muoiono figure del genere, anche per la coerenza con il pubblico, lo Stato deve dare le spiegazioni. E qui arrivano diversi trucchi, trucchi proprio da spionaggio. Un colonnello statunitense improvvisamente ha preso l'aereo, ha deciso di viaggiare da solo senza nessuno, anche se prima non l'ha mai fatto, schiantato con questo aereo da qualche parte negli Stati Uniti. Non ci sono le foto, non ci sono testimoni, non c'è nessuno. È stato subito trovato dalle squadre di soccorso che anche loro non hanno condiviso nessun tipo di approfondimento, però noi sappiamo la notizia. Il colonnello degli Stati Uniti d'America schiantato con un aereo sul territorio delle Stati Uniti d'America. Stranamente tre giorni prima è stato bombardato nella regione di Leopoli, uno dei grandi centri di comando sotterranei che i russi avevano colpito all'epoca con il missile ipersonico Kenjal. Più di 200 persone sono rimasti uccise all'interno, nessuno è riuscito a evitare la morte, perché come sapete il missile Kenjal quando colpisce una struttura soprattutto sotterranea, il colpo del missile è distruttivo non solo perché trasporta tanta carica esplosiva e neanche perché stesso missile ha un impatto cinetico talmente potente che amplia diverse volte la potenza della sua carica esplosiva. Nei sotterranei non ci sono spazi aperti che possono dare lo sfogo all'attenzione che si crea durante l'esplosione. Per questo motivo cari amici all'interno dei bunker sempre durante i bombardamenti nel caso di penetrazione del bunker muore più personale rispetto al colpo che, simile colpo che ad esempio può arrivare in un palazzo, in una casa all'aria aperta. Per quale motivo? Perché qualsiasi struttura architettonica esterna ha delle vie di sfogo per la tensione, che sono le finestre cari amici, finestre che sono fatte con i vetri, i vetri hanno una certa resistenza ma sotto diciamo una grande tensione si spaccano per primi, questo garantisce uno sfogo alla tensione che si crea all'interno dell'aria dove si sviluppa l'esplosione, dove si propagano le onde e quindi non c'è il pericolo del ritorno delle onde e di creazione di una tensione che non è, cari amici, in nessun modo compatibile con la vita di nessuna forma biologica. perché purtroppo alta tensione, come voi sapete, uccide tutto e tutti, perché fino a un certo punto semplicemente l'organismo non la regge. Esplodono gli organi interni, ad esempio la milza parte per prima, fegato, i polmoni, si ferma il cuore, si spapola il cervello e l'uomo non può vivere dopo traumi del genere. Così ad esempio i russi proprio per questo hanno creato una bomba della quale io vi ho già parlato più di una volta nei miei video che si chiama ODAB, si chiama una bomba a detonazione volumetrica, detonazione volumetrica cari amici, è proprio un sistema creato appositamente per sviluppare tutto un sosseguirsi delle onde che nell'epicentro e attorno all'epicentro dell'esplosione creano anche senza necessità di avere spazi chiusi, creano per un momento, per un tot di secondo, per un momento molto breve ma che basta per uccidere gli esseri viventi, crea una altissima tensione e proprio per questo motivo cari amici durante l'esplosione di bombe ODAB anche nei campi oppure nelle zone forestali comunque muore tanta gente perché gente non riesce a sopravvivere alla tensione altissima che si crea dall'esplosione di questa bomba. Quando missile Kenjala ha colpito quel centro tempo fa nella zona di Leopoli, che tra l'altro si trovava molto indietro alla prima linea e era chiaro che si trattava di un importante centro di comando, di raccolta dati, di centro di osservazione satellitare, si capiva che da lì venivano svolti anche le operazioni missilistiche e venivano svolte anche le preparazioni delle operazioni aeree dell'esercito ucraino, lì sono stati liquidati tutti i presenti nel bunker perché quando un missile come Kenjala colpisce per davvero, centra una struttura sotterranea, la possibilità per la sopravvivenza è pari allo zero. Anche se non arrivano direttamente a voi le schegge, anche se non arriva direttamente a voi la prima onda d'urto dell'epicentro dell'esplosione, si crea una tale potente e alta pressione che gli organismi non sopravvivono. E' lì morto quel militare statunitense che dopo qualche giorno è stato dato sirenemente per morto nell'incidente aereo. Poi ci sono stati altri incidenti se voi ricordate, qualcuno caduto sull'elicottero, gli altri in Giappone sono caduti nel mare, terzo ha fatto un incidente stradale, quarto è caduto dalla bici, quinto si è affogato nel bicchiere di birra, insomma ci sono state tutte le storie possibili e immaginabili della gente che è morta in situazioni molto strane, ma tutte queste morti dal punto di vista temporale sono legate a qualche potente bombardamento avvenuto sul territorio dell'Ucraina e quello ci dice che questa gente molto probabile è stata uccisa durante questi bombardamenti. Si trovava sul territorio dell'Ucraina, svolgeva i compiti militari dei quali nessuno deve sapere, nessuno nel paese dovrebbe sospettare che loro si trovavano lì per gli interessi del comando militare statunitense, per gli interessi del Pentagono e per questo motivo le danno per scomparsi e così via. Quindi l'ennesimo caso si è svolto proprio adesso, in questo periodo. Voi sapete, i russi di recente hanno colpito diverse strutture dove si trovavano i militari statunitensi, francesi, tedeschi e di altri paesi della Nato. Queste strutture sono state colpite nella città di Krivoirok, nella città di Zaporosie, nella città di Nikolaev, nella città di Sumy, nella città di Lvov. Due strutture sono state colpite a Kiev. Quindi, cari amici, ah, e anche una struttura è stata colpita a Kharkov, ho dimenticato, perdonatemi. Comunque, io di recente ho fatto anche un video dove vi ho raccontato, ho calcolato tutti questi colpi. Sono enormi quantità di città, Cercasse, Dnipropetrovsk, Ilycevsk, Kharkov, Adessa, Zaporosie. C'è stato buttato giù un'enorme, una struttura Grand Palace. In due settimane, 1180 cittadini stranieri presenti sul territorio dell'Ucraina per fare la guerra contro la Russia sono stati uccisi dalle forze aerospaziali russe. E ovviamente questa è una grande, enorme strage dei mercenari della Nato sul territorio dell'Ucraina dall'inizio dell'operazione militare speciale russi. Non si accanivano mai prima così, in questo modo, contro le occidentali presenti sul territorio dell'Ucraina. E sono iniziate a uscire fuori anche le informazioni riguardo alla scomparsa di figure importanti. Subito dopo il colpo che i russi hanno fatto contro la struttura di ex università statale ucraina sul territorio di regione di Sumy, nella città di Sumy, dove era stato organizzato il centro di addestramento per gli artiglieri a razzo dell'esercito ucraino. L'addestramento veniva svolto da americani perché in quel luogo i giovani militari ucraini, in parte, diciamo, gruppi dei volontari, in parte erano già militari di carriera. Volontari, cari amici, quando io dico volontari, voi dovete sottintendere che si tratta di quei poveracci che sono stati beccati e sequestrati per strada e non c'è niente di volontario in questo, solo che il regime ucraino li chiama volontari. Sono persone mobilitati contro la loro volontà, sequestrati per strada. Qualcuno ha deciso che loro devono prestare servizio nell'artilleria, devono prestare servizio presso i sistemi di lancio dei razzi di missili HIMARS e per questo motivo li hanno mandati in questa scuola dove loro dovevano imparare l'utilizzo di questo sistema perché gli ucraini non sanno utilizzarla, gli americani sanno come utilizzarla perché è un loro sistema e quindi gli americani insegnavano in questa scuola, ormai adesso questa struttura è stata completamente distrutta, come voi sapete i russi l'hanno colpita con due missili ibridi sperimentali GROM-E1 che si dimostrano molto efficaci, infatti sono bastati due missili per distruggere tutto complesso e uccidere più di 340 persone, se non sbaglio il numero è questo. Comunque all'interno di questa struttura c'erano addestratori statunitensi che vivevano, dormivano lì perché lì c'era un enorme spazio, un grande dormitorio proprio attaccato alla struttura universitaria e tutto questo è stato distrutto dai russi. Subito dopo questo attacco apparso un articolo sulla stampa polacca dove si è parlato di un ufficiale di alto livello statunitense morto di un colonnello. Non è stato detto nome e cognome, è stato detto semplicemente che ci sono le informazioni che sono arrivati al giornale secondo le quali un alto ufficiale statunitense è stato ucciso sul territorio della Polonia ma si presume che è arrivato dall'Ucraina ed è stato ucciso in Ucraina durante l'attacco contro la scuola a Sumy. Passato un giorno e un altro articolo, questa volta di Fox News, parla di un altro militare statunitense, questa volta Fox News sono andati oltre, loro hanno parlato di un militare che ha un nome e cognome quindi non semplicemente di qualcuno che ha detto che qualche ufficiale statunitense è stato ucciso perché ciò che ha scritto il giornale polacco può essere anche tranquillamente attaccato dal punto di vista di ricerca di veridicità perché chiunque può dire, anche io posso dire che qualcuno mi ha detto che sono stati uccisi insomma qua e là dell'ufficiale però affinché non mi date almeno un nome e cognome non vi credo. Qua invece Fox News sta parlando di un reale militare statunitense, colonnello che è stato ucciso in Polonia nelle circostanze che dicono stessi stesso articolo di Fox News dice che sono circostanze molto strane, si tratta di tenente colonnello dell'esercito statunitense Joshua Kamara, un uomo di 45 anni, morto come loro dicono in un campo militare dell'esercito statunitense a Poznań, Poznań è una città polacca dove c'è una base statunitense, Kamara è stato insegnato dalla medaglia di legione al merito della stella di bronzo, della medaglia al servizio meritevole, ha avuto altri grandi premi ha un enorme curriculum, le circostanze della sua morte non sono state specificate ma molti hanno notato che la sua morte è coincisa con l'attacco missilistico contro una scuola militare a Poltava e secondo Scott Reiter il noto commentatore analista statunitense, ex ufficiale della marina militare statunitense, specialista di armamenti, ex consigliere dell'ONU sul traffico delle armi, ex partecipante alla commissione dell'ONU durante il disarmo dell'Unione Sovietica degli armi nucleari, insomma una persona inserita negli ambiti di spionaggio, ha lavorato per lo spionaggio militare statunitense, Scott Reiter una persona molto informata, lui ha detto che questo colonnello statunitense non era un semplice militare, era un esperto di guerra radioelettronica e addirittura lui era a capo della missione degli istruttori statunitensi nella preparazione di specialisti dei servizi segreti militari ucraini proprio lì a scuola a Poltava dove come sapete, come già vi ho raccontato non era una semplice scuola che preparava i militari normali che poi andavano inseriti nell'esercito ucraino e andavano a morire in prima linea, era una scuola dove preparavano i specialisti di guerra radioelettronica, specialisti di osservazione, monitoraggio e intelligence con l'utilizzo di sistemi avanzati radiofonici, erano specialisti nell'utilizzo dei droni specialisti di guerra antidroni, quindi cari amici si preparavano i specialisti che avrebbero dovuto lavorare negli interessi del Pentagono, della Nato, sul territorio dell'Ucraina nella guerra contro la Russia utilizzando le tecnologie avanzate radioelettroniche, in questa scuola come sapete i russi hanno fatto un vero massacro, adesso attualmente secondo le ultime stime perché io continuo a monitorare anche in questi giorni ciò che raccontano i volontari ucraini voi sapete dal momento di un bombardamento, da quanto accade un bombardamento al momento in cui si scopre qualcosa possono passare anche due settimane perché le persone che nei primi due tre giorni sono stati feriti nel frattempo possono morire e ci sono nuove testimonianze, ci sono anche diciamo più persone legate ai movimenti di volontari che di solito lavorano sui luoghi di esplosione che cominciano a raccontare com'è andata mettendo tutti questi testimonianze, tutti questi racconti insieme si riesce a costruire un quadro più o meno obiettivo rispetto a quello che ovviamente sono stati dichiarazioni ufficiali, secondo dichiarazioni ufficiali sono morti 50 persone, io quando ho visto solo le foto e il livello di distruzione guardate è poco verosimile che un basso numero come questo alla fine è stato distrutto dopo le esplosioni di due missili Iskander-em lanciati allo stesso momento, sullo stesso luogo, lì le onde d'urto erano talmente potenti che i sistemi architettonici non hanno reso il loro potere distruttivo, sono crollati le basi di una parte di edifici, quindi l'onda d'urto ha distrutto le colonne di cimento per farvi capire solo questo, questo significa che, cari amici, se a distanza di 100 metri si rompe una colonna di cemento vuol dire che corpo umano sarà spopolato a distanza di 200 metri, come minimo, immaginate che lì, in quel momento, secondo i testimoni, in realtà sono morti più di 650 persone, tra l'altro molti sono stati uccisi, come vi ho già raccontato prima, perché sono stati utilizzati malamente i diversi strumenti medici, molti soccorritori non erano capaci neanche semplicemente di mettere un laccio emostatico e questo è portato agli alti numeri di perdite. Tra questi, a quanto pare, c'era anche questo signore statunitense, questo tenente colonnello statunitense Joshua Kamara, che è stato dato per morte, morte si capisce qua, l'occidentale, sul territorio di una base militare a Poznań, in Polonia. A queste cose ormai non credono, a queste dichiarazioni non credono stessi americani, nelle Stati Uniti d'America hanno cominciato a litigare, adesso ci sono le persone che dicono vogliamo la verità, basta con queste menzogne e giustamente ciò che noi adesso vediamo è che gli ucraini e anche i polacchi cercano in tutti i modi a smossare le angoli, soprattutto i polacchi dicono ma sì ma in realtà succede che muore qualche militare, hanno pubblicato un articolo di recente, io ho letto su uno dei giornali polacchi, dove si spiegava che in effetti non bisognerebbe neanche più parlare dei morti militari che muoiono nelle retrovie perché queste notizie possano inquinare lo spazio di informazione. Cavolo, cosa volete dire? perché bisogna limitare l'informazione, ma siete pazzi, siete un paese che si trova in Unione Europea blatera della democrazia e della libertà e praticamente mi state scrivendo delle pagine dei vostri giornali che bisogna mettere alla censura? Questa è la situazione che è stata scatenata dopo la morte di questo colonnello. Comunque Fox News lo afferma, dice a nomi e cognomi e ormai è chiaro che è stato ucciso questo personaggio durante il bombardamento a Poltava e questo dimostra per l'ennesima volta che ciò che hanno cominciato a difare i russi, ovvero bombardamento veramente massiccio contro le strutture che ospitano i militari occidentali è una forma di dichiarazione di guerra diretta all'Occidente. I russi hanno detto prima vi lascevamo stare, prima chiudevamo gli occhi alla vostra presenza, prima ci concentravamo su quello che succedeva nella linea di scontro, colpivamo le retrovie, colpivamo i snodi ferroviari, colpivamo la logistica, ma adesso basta, adesso vi faremo fuori uno per uno e veramente capirete che fare un giretto in Ucraina per fare safari, per stare qualche mese e svolgere qualche servizio qua non è non è un affare redditizio perché potete tornare a casa all'interno di una bara di zinco. Questo in grande linee, cari amici, ciò che sta accadendo adesso in Ucraina. Vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre alla fine dei miei video io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram dove io condivido tutto quello che di solito viene censurato, nascosto, strumentalizzato dal nostro mainstream occidentale corrotto. Il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione a questo video. Se volete seguirmi qua su YouTube vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.